Ciao a tutti. La Gran Bretagna consegnerà munizioni all'Ucraina, con uranio impoverito. Lo ha annunciato ufficialmente il sottosegretario alla difesa, Annabel Goldi. Oltre a fornire uno squadrone di carri armati, Chellenger 2, all'Ucraina forniremo munizioni, inclusi proiettili perforanti che contengono uranio impoverito, ha affermato il vice capo del Dipartimento della Difesa. L'uranio impoverito viene utilizzato in proiettili perforanti subcalibri, a causa della sua alta densità, e ha una qualità, una significativa distruzione esterna. Per la prima volta, ha iniziato a usarlo, nella Germania nazista, dove il tungsteno scarso e più denso è stato sostituito con uranio impoverito. Negli anni 70, per combattere i nuovi carri armati sovietici, lo sviluppo di questi proiettili fu intrapreso negli Stati Uniti. Ad oggi, sono inclusi nelle munizioni dei carri armati americani Abrams e degli inglesi Chellenger 2. Inoltre, i proiettili di calibro più piccolo sono utilizzati nelle munizioni per cannoni, aerei d'assalto A-10 e BMP Bradley. Come notato da un esperto militare, Konstantin Sivkov, tali proiettili minacciano la salute dei civili, infettano l'area, che successivamente provoca focolai di cancro. Amici, il canale ha bisogno della tua attenzione, il supporto finanziario ci aiuterà molto. Dettagli nella descrizione. Metti mi piace e iscriviti al canale. Ciao a tutti.